un saluto agli amici e case di milano oggi abbiamo fatto chiave per nissan che marca è il modello n200 ecco qua andiamo a vedere se funziona ok chiude apre perfetto vediamo se accende il motore acchiappa è andato altri soldi in sacoccia vai perfetto benissimo un saluto un saluto un saluto un saluto Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti!